Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Leggo sul Corriere della Sera, che non è, o che si dice non essere, un quotidiano catacombale e carbonaro, che della vedova esponente di Più Europa, che attenzione non è una minaccia, sembrerebbe una minaccia, in realtà è il nome di un partito, Più Europa, il signor della vedova ha ricevuto 312.000 euro di finanziamento da Giorgio Soros, proprio da lui, dal filantropo no border, dall'esponente della plutocrazia neoliberale San Frontier, 312.000 euro. Attenzione, non 312.000 euro dati al partito Più Europa, bensì 312.000 euro, leggo sul Corriere della Sera, dati direttamente al signor della vedova, che dice che lo prevede la legge e quindi può riceverli. E io non ho nulla da eccepire. Benissimo, se c'è un filantropo che ti vuole dare 312.000 euro, ma che dico, anche 10.000.000 euro che te li dia pure. Non ho nulla da eccepire su questo. Però non dire che stai difendendo un'idea. Tu stai difendendo la visione ideologica di chi in qualche modo sostiene le tue idee. Questo è il punto. Bisogna essere molto schietti nel dire le cose. Il chiamare le cose col proprio nome è il primo gesto rivoluzionario, diceva Rosa Luxemburg. E quindi siamo rivoluzionari nel chiamarle cose con il loro nome. Quindi abbiamo capito che il signor della vedova, che saluto caramente qualora stesse vedendo il nostro video, e gli auguro di spendere nel migliore dei modi 312.000 euro, che non sono pochissimi in verità, sostengo, lo saluto caramente, e gli dico che effettivamente la sua visione è una visione sorosiana del mondo, e la visione del filantropo capitalista che sostiene gli interessi degli happy few, delle classi dominanti no border, e quindi che dice più Europa. Più Europa è l'incubo dei lavoratori e dei ceti medi di tutta Europa, perché l'Unione Europea distrugge i diritti e le conquiste delle classi medie e delle classi lavoratrici, e difende al massimo la visione del mondo neoliberale e plutocratica delle upper classes di cui Giorgio Soros è esponente. La plutocrazia neoliberale l'ho chiamata nel mio libro Storie e coscienza del precariato. E quindi scopriamo ora che il signor della vedova è sostanzialmente molto amato da Giorgio Soros, a tal punto che Giorgio Soros dona a lui 312.000 euro, lo dice il Corriere della Sera. Quindi credo che in qualche modo sia evidente il fatto che c'è un nesso diretto, direttissimo, un nesso che si può misurare, anzi è un nesso contante starei per dire, un nesso che conta, e che rivela come ci sia una relazione molto forte di visione ideologica tra il signor della vedova e il signor Giorgio Soros. Nulla di male intendiamoci, tutto legittimo, basta dirlo apertamente e basta saperlo. Sappiamo che più Europa e della vedova hanno una visione che piace molto a Giorgio Soros.